Le hanno scippato la borsetta in pieno pomeriggio mentre in via Ugello si trovava in compagnia di altre persone. L'episodio si è verificato a Canicattin, provincia di Agrigento, nei confronti di una 47enne. La donna è stata avvicinata da un uomo che repentinamente le ha portato via la borsetta ed è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. La borsa è stata ritrovata dalla stessa vittima del furto nelle vie adiacenti a via Ugello. All'interno però non c'era più il portafogli che conteneva 10 euro e diversi documenti di riconoscimento. La donna ha denunciato lo scippo ai carabinieri della stazione di Canicattin che hanno informato subito la procura della Repubblica di Agrigento e avviato le indagini per provare a identificare l'uomo. Non sarà facile ma i militari dell'arma sperano che qualche particolare sull'identità possa venire fuori. Il furto intanto ha causato un danno economico alla donna di 50 euro oltre alla perdita dei documenti di riconoscimento.